Ecco, la leggenda dice, coicentica, che se si si addormenta al primo maggio sotto il biancostino si deve raccogliere l'effetto. Mentre lontano, ad esempio, è una pianta del demone. Ma c'erano due cose che davano fastidio ai centi e non capivano. Quando tu non capisci, se tagliavi una corteccia c'era l'infa rossa. E poi il legno non marcisce, infatti Venezia è fatta spontanea, la parte di Vene delle fontanette è fatta da lontano, le palafitte erano fatte da lontano, è un legno che non marcisce in inglese, quindi era una cosa strana. Non marcisce, è l'infa rossa dei doni, ci mettevano un attimo, invece biancostino fate. Non so se ti rapiscono e ti riportano, pensai che non li muoci, ma a me non è mai successo. Però la legenda dice l'osca doni, darsi sotto, vi accospiro solo un po' di mezza.